Francesco Gabbani con Volevamo Solo Essere Felici e voi non potete capire quanto siamo felici noi di avere proprio qui nei nostri studi Francesco Gabbani, benvenuto! Eccomi qua, ciao Barbara, ciao Marco, ciao a tutti, come state? Benissimo, tu un pochino stanco immagino perché la promozione di un album quando esce comporta insomma la spesa di tante energie no? I famigerati firma copie no sì sì vabbè dai se è sincero sì un po' di energie le prende però sono energie giuste insomma ci sta insomma ma anche perché vabbè è ovviamente così bello pensare di sono occasioni per rincontrare noi il pubblico e quindi c'è un grande insomma è un bel è un bel è un bel da farsi ma inteso in senso buono dopo tutto quello poi che abbiamo passato ancora assolutamente ancora di più ce l'ho guarda parto con una nostra ascoltatrice subito che mentre ascoltava la canzone ha scritto che canzone spettacolare Francesco e io mi unisco a questo messaggio la prima volta che ho letto e ho ascoltato la canzone ho letto il titolo questo volevamo essere felici mi è piaciuto subitissimo questo volevamo che non è messo lì a caso ma un significato particolare che vorrei raccontarsi tu ai nostri ascoltatori io lo devo raccontare io no perché io sono sempre più capendo che forse spiegare le canzoni lascia il tempo che trova c'è nel senso che ognuno poi è giusto che abbia il suo di senso della canzone no allora il significato fondamentalmente di questa canzone è quello di raccontare il fatto che in un modo nell'altro in tutto quello che facciamo dietro a tutto quello che facciamo inteso come azioni o scelte che compiamo nella vita inevitabilmente credo che ci sia la ricerca della felicità cioè nel senso andare a definire la felicità è un compito arduo ma perché è quasi impossibile perché ognuno ha la sua idea di felicità no cioè quindi è veramente una cosa molto soggettiva non esiste una definizione generica universale che vale per tutti quello che però possiamo affermare che sicuramente tutti la cerchiamo ma dai ma è ovvio anche perché se uno a meno che uno non sia estremamente masochista ecco cioè l'idea è quella di star sereni insomma di essere felici e questa canzone parla un po' di questo e poi c'è un bellissimo videoclip prende spunto dal film noi siamo infinito dove c'è un ragazzo che riesce a vincere la timidezza a invitare la ragazza che gli piace al ballo della scuola insomma come dire non aspettiamo che la felicità ci cade addosso ma piuttosto costruiamocela c'è una frase bellissima di madre teresa di calcutta che dice la vita è felicità meritala guarda è bellissima una frase bellissima io sono io sposo questo concetto con questo pensiere invece che credo che la felicità non sia almeno io io ho capito che per me è così che non è un qualcosa da aspettare da raggiungere ma anche qualcosa da vivere cioè da vivere nel momento ecco la vedo così due momenti di felicità per francesco gabbani uno come francesco gabbani artista e uno come francesco gabbani uomo due momenti di felicità che ricordi particolarmente allora che ricordo vabbè dai se dovevamo parlare se dovevamo parlare di ricordi è ovvio che momenti cosa ne so quando ho vinto il festival di sanremo nel 2017 è stato ovviamente un grande momento di felicità però il gabbani uomo invece veramente cerca di seguire il concetto che ho espresso prima nel senso nel fatto di trovare la felicità in cui ora e quindi io potrei dire che in questo momento con voi qua a radio bruno sono felice perché cerco di vivere appieno il mio presente e quindi come potrei non essere felice qua adesso con voi quindi questo è francesco gabbani uomo e cerca di coglierla nel momento la felicità beh dal punto di vista professionale c'è anche la felicità davanti alle telecamere noi te l'avevamo detto già anni fa che saresti stato perfetto per condurre un programma televisivo e finalmente qualche settimana fa a meno di un mese fa ti abbiamo visto nelle vesti di conduttore per ci vuole un fiore come è stata l'esperienza cosa è stato facile cosa è stato difficile ma allora è stato facile il fatto di vivere in un modo spontaneo a circostanza anche perché io mi sono ripromesso di viverla in quel modo perché non essendo io comunque ovviamente di mestiere non facendo il presentatore il conduttore non avevo consapevolezza di quello vera di quello che stavo facendo e quindi mi sono veramente buttato sull'onda dell'istintività per quanto ovviamente abbiamo fatto prove insomma il programma è stato scritto lo show però comunque il modo di registrarlo è stato quello comunque di essere il più spontaneo possibile quindi quello è stato sicuramente un aspetto bello, positivo e devo dire anche divertente mi sono veramente divertito a vivere questa avventura l'aspetto invece se vogliamo un po' più complicato è stato quello di cercare di relazionarmi ad un pubblico io ho provato a farlo un po' come quando faccio i concerti quindi con la dimensione del live invece quando tu devi essere live in televisione cambia ovviamente cambia perché sai che dietro la telecamera c'è magari qualche milione di persone che ti sta guardando questo è la cosa che ho trovato più complicata tra virgolette sei abituato a guardargli tutti negli occhi ma in quel caso non era proprio possibile è proprio così, li devi immaginare Francesco Gabbani anche cantautore, oltre che cantautore, oltre che autore, buon instrumentista eccetera eccetera abbiamo detto anche presentatore aumentano le responsabilità a te piace dire che un po' suoni e un po' strimpelli è vero, è vero, i ricordi veri, è proprio così beh, anche attore, nel senso che poi c'è anche un film ne parliamo tra poco perché il film sta per arrivare tra l'altro credo a giorni, non solo a data precisa ma credo che oramai l'uscita sia imminente intanto però sentiamo un'altra canzone di questo album e volevamo solo essere felici la canzone è La Rete il pescatore sei te c'hai tenuto compagnia per tanti mesi l'anno scorso con questa canzone La Rete ed è stato un piacere di sentirla anche con te mentre facevamo anche due chiacchiere belle chiacchiere belle chiacchiere, che ci conosciamo da un sacco di anni ami molto la tua terra, Carrara, Aleapuana hai deciso di continuare nonostante il successo nonostante tu sia sempre in giro a vivere lì il tuo lavoro però ti porta spesso lontano da casa magari hai anche una base in un'altra città come Milano non sbaglio sì, diciamo che a Milano ho quel classico piedaterso che si può definire quindi un punto d'appoggio perché ovviamente come dicevi tu per il lavoro che faccio mi devo spostare spesso però ho scelto di rimanere di base appunto nella zona di Carrara diciamo quando sei lontano cosa ti manca di più? ma direi guarda la cosa che mi manca di più è sicuramente la vista la vista di una cosa particolare che c'è in quella terra lì cioè il fatto che hai a distanza di 7 km il mare e i monti cioè quindi io fra l'altro poi abito la mia casa è in collina e quindi ho proprio questa vista che da una parte vedo il mare dall'altra vedo le montagne però stranamente vai sempre verso le montagne perché tu sei un montanaro dentro esatto, tendo a preferire la montagna perché l'andare in montagna ha sempre avuto storicamente un significato di come posso dire di elevazione anche quasi sacrale come tipo di concetto cioè il fatto di andare verso l'alto è anche una sorta di come posso dire di ricerca di se stessi questo senso questo senso a me piace molto mi attrae molto senti tu hai viaggiato molto viaggi molto per il lavoro che fai 5 anni fa lo ricordiamo eri a Kiev per l'Eurovision sul contest portando occidentali scar ma sappiamo tutti insomma quello che sta succedendo adesso a Kiev di Ucraina una fotografia della Kiev di come te la ricordi come l'hai vissuta 5 anni fa o un pensiero su quello che sta accadendo adesso? allora io ho un ricordo strepitoso di Kiev anche perché era una città che non conoscevo poi l'Ucraina in generale o Kiev in particolare non li conoscevo ed è stata appunto con l'Eurovision un'occasione per vedere qualcosa visitare un posto nuovo e devo dire che ero rimasto super colpito perché non immaginavo fosse così ma a parte ben tenuta cioè devo essere sincero ben tenuta solare le persone molto accoglienti veramente mi è rimasto un ricordo incredibile e quindi è ovvio che come quando hai un metro di paragone vedere le immagini che arrivano oggi per chi come me l'ha vissuta con positività a un metro di paragone ovviamente è ancora più più sconcertante vedere quello che sta accadendo c'è una canzone che stiamo per ascoltare che non è tu non l'hai scritta prima che accadesse tutto quello a tutti i fatti che stanno accadendo è una canzone che è arrivata prima parla tu hai spesso cantato di pace tu sei una persona insomma che ama la pace come tutti i nuovi immagini ed è quella che adesso andiamo ad ascoltare che tra l'altro hai scritto non da solo ma anche con un pezzettino importante dei pinguini tattici nucleari ah quindi stai parlando di lo dico io il titolo no vabbè di peace and love all'interno di volevamo solo essere felici sì l'ho scritta l'ho scritta insieme a Riccardo Zanotti dei pinguini ed è stato bello insomma collaborare con Riccardo che ci siamo ci siamo subito trovati anche dal punto di vista di scrittura oltre che dal punto di vista insomma umano ed amicizia e allora l'andiamo a sentire la sentiamo con Francesco Gabbani dal suo ultimo album volevamo solo essere felici questa su Radio Bruno è peace and love Francesco Gabbani a Radio Bruno in carne e ossa non soltanto con le sue canzoni spazio tempo è il titolo della canzone che è stata sigla della prima serie televisiva della prima stagione di un professore con Alessandro Gasman e Alessandro Bastonardi per le altre cose immagino se ce ne sarà una seconda serie forse ci sarà ancora questa canzone secondo me perché è perfetta poi non so magari ci sta sono d'accordo con te secondo me ci sta sono d'accordo con te in realtà me hanno già chiesto se mi viene in mente qualcos'altro per la seconda stagione però io gli ho detto se viene una canzone strepitosa che diventa che accompagna bene diciamo questa spazio tempo perché no però sono d'accordo con il fatto che ormai perché questa canzone ha avuto una vita diciamo grazie alla serie la serie l'ho avuto grazie alla canzone cioè in senso è un po' c'è stato un dare avere un viceversa non per autocitarmi comunque nella serie c'era ho sbagliato io non Alessandra Mastronardi ma Claudio Pandolfi Alessandra Mastronardi invece è nel film che uscirà tra pochi giorni che è la donna per me di Marco Martani c'è anche appunto Alessandra Mastronardi e c'è anche un Francesco Gabbani inedito perché è la tua prima volta come attore sì è la mia prima volta quest'anno è stato in questo ultimo periodo tante prime volte diciamo sì è la prima volta anche in questo caso un po' come nel programma mi è stato proposto di fare questa nuova avventura appunto proprio da Marco Martani che registra ecco lui ha scritto questo film e mi ha proposto di fare un ruolo ecco un ruolo all'interno di questa di questa commedia e io mi sono prestato mi sono prestato perché insomma è stata anche questa un'esperienza nostra sono però curioso di vederne il risultato perché io non l'ho ancora visto il film tu l'hai vissuto però non l'hai ancora visto come è andato come sono andate le riprese qualche aneddoto qualche curiosità e tu ti definisci un precisetti quindi sei contento del tuo lavoro sul set ma allora ovviamente ovviamente no 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 da una parte credo di sì dall'altra ripensandoci col seno di poise credo di aver fatto tante piccole imperfezioni che derivano dal fatto che ovviamente per me è stata una prima esperienza quindi ecco ho dovuto acquisire certe certe dinamiche perché comunque fare prima parlavamo di com'è difficile fare cioè il mood nel fare televisione ecco il cinema è completamente un'altra cosa perché ho notato che infatti me lo dicevano io sono abituato a essere nell'espressività tendenzialmente teatrale no stando sul palco sul palco di teatro e sul palco live tendi a enfatizzare molto le espressioni perché devi amplificarle nel cinema è il contrario no lì ci sono i primi piani quindi tu ti muovi leggermente un sopracciglio e ti cambia tutto quindi questa cosa infatti non sono non sono un attore di professione però mi sono pensato comunque è stato molto divertente dai ora vedremo il risultato lo vedrei anche io quando vedrò il film dirò sono stato bravo no vedremo da bravo precisetti da precisetti giustamente nell'album c'è anche una canzone che tra l'altro fa parte della colonna sonora del film ne parlavamo poco fa microfoni spenti tra l'altro nell'edizione speciale dell'album su vinile c'è un'edizione dove c'è questa canzone che è La Mira La Mira è stata registrata a Debbie Road bella esperienza anche quella i fantastici i mitici studios di Londra dove registravano i Beatles abbiamo proprio registrato nella sala B che è proprio la sala quella proprio dei Beatles è quella che iconograficamente è quella che c'ha la scalinata bianca che porta la regia che c'era la regia insomma sovrastante è stata un'esperienza ovviamente incredibile perché insomma mi sono goduto appieno tutta l'energia karmica dei Beatles ecco diciamo così forterà sicuramente fortuna allora abbiamo parlato di te come cantautore ovviamente come presentatore televisivo come attore adesso parliamo di te anche come polistrumentista allora andiamo un pochino indietro perché mi piace questa parola polistrumentista suona insomma un sacco di strumenti fin da quando eri piccolino io ero presa di sapere qual è stato il primo strumento che hai suonato e perché proprio quello ma il primo in assoluto è stata la batteria perché uno perché mio padre era e è tuttora un batterista suonava la batteria e quindi avete anche un negozio di strumenti musicali sì 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 assolutamente ancora e la batteria insomma la suonava mio padre quindi io mi sono avvicinato alla batteria per questo motivo credo perché comunque trovavo spesso delle batterie montate quindi mi e poi credo che dipende dal fatto che suonare la batteria quindi il ritmo cioè il discorso della percussione è una cosa secondo me ancestrale che fa parte un po' di noi cioè la prima pulsazione quindi è una cosa istintiva poi istintivamente eri un bambino quindi hai scelto la cosa che faceva più casino più casino più casino ma infatti poi ho cambiato ho iniziato a studiare chitarra quando mi sono reso conto che la batteria non potevo portarla in giro facilmente invece la chitarra c'era la custodia te la mettevi dentro la custodia la chiudevi la portavi con te poi la batteria credo sia l'incubo anche di tanti genitori che hanno i figli magari giovani che vogliono iniziare a suonare uno strumento papà voglio suonare la batteria soprattutto l'incubo credo che sia per chi abita ovviamente in un condominio e dei vicini ecco magari non troppo aperti a queste espressioni artistiche rumorose senti Francesco il tuo repertorio comincia a essere veramente molto vasto e qui entriamo un po' anche nel discorso concerti visto che finalmente stanno per arrivare anche quelli sia in estate ma anche dopo ne parleremo fra pochissimo ti capita di dover pensare non lo so di dover cominciare a togliere qualche canzone altrimenti faresti dei concerti lunghissimi se ti capita qual è quella canzone che dici no dai questa no questa no quella che proprio non puoi togliere quella che ci deve sempre essere in un concerto al di là di quelli che sono i tuoi successi ovviamente che tutti vogliono sentire ah in questo senso ovviamente la prima risposta era quella perché ovviamente uno cerca di assecondare giustamente le canzoni che il pubblico principalmente quando insomma avviene i concerti desidera fondamentalmente ascoltare allora ce n'è una in particolare che mi piace sempre molto fare non so perché dal vivo continuo a emozionarmi molto tutte in realtà però una in particolare che si intitola foglia al gelo mi piace soprattutto farle normalmente nel summer tour d'estate ad agosto tipo ecco quando fai foglia al gelo perché a me piacciono gli opposti ecco io chiedo invece di non togliere il vento salzerà va bene lo fai solo se lo io va bene va bene va bene ognuno ha le sue preferite insomma ricordiamo che dopo i concerti Stevie mi sembra che partano vado un po' a memoria in giugno il 28 giugno mi sembra anche a me ora sinceramente andiamo a memoria per fortuna ci sono i social ci sono i sedi internet che ce lo ricordano tra l'altro credo sia un calendario anche in evoluzione è in evoluzione infatti a breve ci sarà un'altra mandata di aggiornamento date perché ovviamente la formazione la composizione di questo tour è venuta di conseguenza dal fatto che ovviamente avevano dovuto spostare le date per forza di cose le date di palasport in autunno e quindi diciamo abbiamo cercato di mettere in piedi questo tour quindi lo stiamo ancora diciamo componendo diciamo così ricordiamo allora anche li hai citati giustamente i palasporti il primo ottobre sei al Mediolando un forum di Assago l'8 ottobre il palazzo dello sport di Roma la prevendita è attiva su Ticket One intanto continuo all'in store tour fra poco fra un aspetta fammi vedere l'orologio quando mi fate ma io sto troppo bene qua con voi ma finire che non vado a fare il film a coppia ma non dire neanche per scherzo che ci sono già le persone là in fila e comunque se è vicino all'estate lo sai dove stiamo aspettiamo noi su un palco molto importante lo so lo so però non so ancora dove di preciso non me l'avete detto si può già dire non lo sappiamo neanche noi facciamo in fun ma noi due non lo sappiamo io stavo cercando di eh perché non lo sappiamo ancora quindi no non lo sappiamo l'importante è che tu dica sì io sarò dove a Radio Brunestate benissimo abbiamo registrato il claim è quello si dice così Radio Brunestate ci sarà anche Francesco Gabani adesso ti lasciamo andare perché ogni promessa è un debito benissimo ti lasciamo andare in quel di Bologna e allora grazie per essere stato con noi caro Francesco ti rivedremo sicuramente durante l'estate e buon proseguimento insomma con tutta quella che è la produzione la promozione di questo fantastico disco davvero grazie grazie veramente di cuore è stato ovviamente un grande piacere come sempre stare con voi ciao a tutti gli amici di Radio Bruno ciao ciao grazie a tutti Grazie a tutti.